A presto Ora è realizzato. Tranne forse un iniziale se non ricordo male che non ha trovato il canestro. Maes ha tutto da sé, poi per Liglianesi che non rifiuta. Il coach ospite Bertemati, non è un caso che sia entrato in campo il vero gladiatore di questa squadra, il giocatore che infiamma. Non può essere appare a Trapani perché la difesa è abbastanza arcigna su Maes, c'è un faccia a faccia di Cesana ma Maes si trova il pallone e va a realizzare. La formazione trapanese con Tavernelli che scarica per Maes. C'è fra le mani di Renzi, Maes ha arresto il tiro di Maes che negli ultimi 5 minuti di tutto questo match, a meno che non ci sarà il supponentare. Renzi, Tavernelli, Maes sfidato al tiro e realizza. Ferentino, Liglianesi va da Maes che attacca poi dentro per Fillapani. Fillapani, entrambe piuttosto deluse dall'andamento della stagione ma che hanno ancora praticamente 10 partite per Riespondi. Si alza la voce Ferentino, Ferentino dalle tribune, risponde. Si sbaglia il gancio, stavolta Gigli. Poi Maes contro Guarino, si prende un'altra tribuna. Maes, pick and roll. Maes, Dioso, va dentro da Semic. Semic si apposta di vantaggio per la FMC. Maes, ora, al tentativo di tripla, solo rete. Gli ultimi 2 minuti e mezzo di questa fondamentale partita. Maes, fuori da Filloi con tantissimo spazio. Demian Bani, Viglianisi contro Sabatino. Uno contro uno, spalle a canestro. Maes, da lontanissimo, si alza ancora. Una volta, Raymond fuori da Filloi. Si va da Maes, Maes attacca, poi in angolo da Viglianisi. Tripla di Viglianisi. Chiama dunque il blocco di Simic. Maes, 8 secondi per tirare. Maes si prende l'ennesima tripla. E impostare ancora con il playmaker americano in possesso di palla. Tira da oltre 9 metri, anche questa. Finisce da Maes. Vuole difendere fino in fondo Ferentino. Maes, 5 secondi per tirare. Va ad attaccare. Serve l'assist per Filloi. Giorni fa, possesso, ora nelle mani di Maes. Lavora su di lui, sempre Perle. Si butta indietro con lo step back. A Grigento. Certo, prendere 20 punti in 7 minuti e mezzo di partita. Direi che sono un po' tanti, sono un po' troppi. Metterlo l'altra parte. Tanto sia importante nell'economia di questa serie e di questa squadra. Grazie che viene qui a Trapani per vincere. Perché sarebbe un vettore fondamentale, come dicevamo, anche in chiave. L'uscita da parte di Maes, inseguito sempre da Matteo Negri, che anche prima ha lavorato molto bene sul giocatore americano, qui deve arrendersi. L'interazione di campo fischiata, non si capisce perché questo regalo del giocatore Granato. Trapani, tiro dalla media di Maes. 2-0 nella serie. Deve difendere ancora Treviso e probabilmente sprecare il massimo numero di secondi nell'attacco trapanese. Lo fa molto bene Perle. con potenzialmente ultima opportunità ancora per il benacquisto e assicurazioni. Blocco da parte di Simic per Maes che si allontana da Canestro. Prende la tripla, Maes! Renzi cede palla a Maes. Maes attacca Fantoni. Scarica il centro per... Nel tre perde Tomassini. E Trapani può andare a giudarsi questo pallone in transizione. Maes... 8 secondi per chiudere l'azione. Ci prova Demian Filloi. Per la formazione di Casale. Maes in passaggio di palla. Arresta il tiro di Maes. Maes dentro per Filloi. Si prende un muro in balzo, riuscendo a proteggiare ottimemente Sedorini. Mentre Maes... Deve esserci un'infrazione di passi per Maes. Non sazionata. Maes veloce dentro. Scarica Crocket. Il portatore da Trapani. Non è stato abbastanza convincente. Trapani deve andare a ballo. Può andare in contropiede adesso con Maes. Che non può sbagliare. Natali. Spreca. Fuglioi in gola. Si in gola in contropiede. Maes poi va alla conclusione da tre. Si comincia l'esperienza di bella. Maes si butta dentro. Bravissimo. Era stato il migliore dei suoi all'inizio. Ma poi sono saliti anche gli altri compagni. Recupera palla Trapani con questo contropiede. Con Maes. Sono Vito Lombardo di Trapani. Rosalia Tarina di Palermo. E Giuseppe Legrino di Trapani. Poi con il famoso tecnico ha cambiato un po' il metrario di Trapani. Trapani dall'angolo con Tavermelli. Andrea Renzi a tirar giù il rimbazio. Il vigile con Roma. Oltre a Rapperno già in posizione. Trapani deve smarrire il senso dell'unico della ragione. Maes fa tutto da sé. Arresto attivo. Perché così chiaramente Roma un mantiduso. Non si può permettere di concedere il filo da tre alla formazione ospite. Il filo da tre per Viglianisi. 4.41 da giocare. Si è infiammato il match. Maes. Si porta a spasso Sandri. Valla a compiù su il capo. E non c'erano 13 secondi. Alla fine di questo terzo quarto. Maes. Seduta dentro Maes. Il servizio per Renzi. Un contropiede di Trapani. Maes. Cerca di pallone. A controllo che sono in base. Più che altro. Maes da tre. Arresta il tiro. Arresta Maes. Lo sta aiutando anche a esserlo. Maes. Un po' forzato il tiro da Maes. Per l'arrivo. Per Renzi. Il servizio per Maes. 4 secondi. Deve andare al tiro. Lo fa Maes. E realizza l'incredibile calattolo di Maes. Faluca riesca a contestare più fisicamente Canedo. Attacca Maes. Contro Caroti. Passa la palla in post. Per Andrea Renzi. Contro Radici. Ancora per Maes. La bomba di Maes. All'asse. Legion Radici. 4 e 30 sul cronometro. Maes. Partenza. Fino a dentro. Ancadic. Iolupuso ragisce da numero 5. Bellissimo. Il backdoor per Trapani. 44. Circolazione di palla ancora per Trapani. Via. Nisi. Scarico dall'altra parte del parquet per Maes. Prova la bomba. Maes. Le due squadre. Gara apertissima. Maes da 3. Un bel po' di nazioni italiane passali. Radici segna ancora. 85-76. Ultimo possesso. Renzi. Giura 2 con Maes. Ancora la conclusione. Maes. Maes. Ma la conclusione pesante. Maes. E realizza proprio. Non si aspettava probabilmente il passaggio. 9 secondi per chiudere l'azione. 6. Va alla conclusione. Maes. E va a segno. Veramente in difficoltà. Trapani. In attacco. 8 secondi. Con Maes che va dentro. C'è un'autostrada. Ascora da Renzi. Quale costretta a un passaggio lungo per Viglianisi. Poi ancora per Maes. Gli viene negato il tiro da 3 punti. Non gli viene negata la 31. Bel finale di tempo tra le due squadre. Oserei dire. Intanto si alza da 3 punti. Maes. A segno. Dall'altra parte Maes. In palleggio. Ancora Maes che va dentro. Molto molto bella questa penetrazione. Capovolgimenti di fronte. Dalla parte e dall'altra. Maes. Stanchezza. Badasso va dentro. Perde palla. Penetrazione assolutamente sbagliata. Poi dall'altra parte Maes. Consecutivi. Giuratore che per poco non portò Trapani alla promozione. Per Agropoli la rimessa è perso l'aperto che regala il pallone a Maes che va a realizzare. Subisce anche il fallo e faccia a faccia di Romeo su Maes. Un sbagliato speciale ma Maes ancora una volta fin lui arriva a palla. Potrebbe andare ad attivare 3. Poi preferisce l'azione manovrata e far scendere appunto i giocatori che erano già andati a pezzarsi in difesa. Maes fa impazzire carenza e poi prema neanche il fallo. Davvero tipico. Un giocatore che tira con percentuali incredibili da 3. Maes da 3 che replica a 3. In campo due ex come Ganeto e Renzi. Mentre Trapani ruba palla con Maes che si invole. Gioco con Biglianisi che fida il pallone a Maes. Sempre marcatore individuale da parte della formazione. A postare qui Maes che ancora una volta va alla conclusione. Dare il proprio contributo in questo più di partita. A respirare dunque Renzi in partina per la formazione di Renzi. Con Maes che si butta dentro. Ed è come una cosa come 35 punti qui a Trapani. 22 che organizzò De Vito in una gara caratterizzata da tantissimi canestri. Dall'altra parte con Zilloi e Ganeto con del baronamento in campo. Maes tutto solo realizza una partita che ha veramente fasi alterne. E che è caratterizzata appunto da questi due americani che continuano ad andare a segno. Trapani 6 minuti e 25 secondi per giocare in questo terzo periodo. Un po' il terzo periodo ha rappresentato un limite in Trapani in questa ultima. Trapani e palla in mano. Biglianisi va da Maes chiuso dalla difesa di Treviglio. Particolarmente reattiva in questa frangente. Arriva il blocco di Renzi. Eccolo qua. Maes vada a tre. E colpisce il quarto, il nono minuto della terza frazione. Maes fino in fondo. Entrare nel punteggio. Biglianisi proprio per Maes che attacca. Va sulle tracce di Marini. La tripla di Maes. Inizierà anche in difesa sulla partita di stasera. Trapani che ricorda la prima volta finalmente in settimana. Mentre Maes. 13, poco prima. Maes. Ancora per Crocchett. Maes. Marcazza De Shield. Va alla conclusione Maes. Ho avuto queste due o tre conclusioni per avvicinarsi ulteriormente. Maes. Si provarà un cambio. Gramenzi. Lo Napani. Che ne aveva 13, poco prima. Maes. Ancora per Crocchett. Miglianisi. Vuole il blocco di Crocchetto. Trapani in attacco contro l'Arnelli. Si fa vedere e riceve l'americano di coloro di Trapani. L'americano principe Maes. Sono dolori per Trapani. Si e soprattutto Trapani sta sprecando le occasioni per ricucire che potrebbero mettere nel frattempo Maes. Tortona che si butta dentro. Poi lo capisce. Capisce bene il passaggio. Lo legge bene. Maes che va con questo pickback a tirare. Se così c'è passato. Se per se no c'è il consentito di dire. Sono molti ruti in campo. Mentre Grandelass.